ben trovati amici sul mio canale in cui parliamo di orchidee allora vi volevo far vedere i chingianum chingianum e dendrobium guardate quanti steli floreali ci sono chingianum su un altro video che abbiamo fatto è un orchidea dell'australia è un orchidea che vive sulle rocce è una orchidea da roccia diciamola così definiamola un orchidea da roccia guardate che bellezza di fiori che verranno fuori di steli di getti quest'anno ha fatto tanto che ha diciamo la verità quest'anno ha fatto veramente tanto 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 poi vi farò vedere quando fioriranno ecco questo è uno questo è uno questo è uno allora quello che vi volevo dire nel video di oggi dei chingianum è che sono in fibra di cocco ho fatto un'aggiunta di miscelarla un po con la pietra pomice ho fatto un passaggio in più ho provato questo mix del pietra pomice e fibra di cocco non esiste come prodotto l'ho fatto io circa 70 per cento fibra di cocco quella pura e 30 per cento di pietra pomice asciuga tantissimo se vedete questo è asciutto guardate questo è asciutto e questo è il bagnato differenza uno più scuro vedete quello dietro uno più scuro uno più chiaro chiaramente essendo vasi piccoli essendo vasi grandi bisogna un attimo un po gestire la situazione perché questo per quando si asciuga ci mette più tempo o meno tempo a seconda poi anche delle radici che ci sono dentro è vero il discorso del vaso grande asciuga il vaso piccolo perché piccolo asciuga pure lui ma poi se nel vaso ci sono poche radici c'è anche poco assorbimento di acqua guardate quanti fiori verranno fuori e breve allora nel video di oggi e a parte che sono innamorato dell'orchidea dendrobium chingianum ho fatto fare un periodo di riposo ma il periodo di riposo è obbligato perché quando le temperature vanno a zero questi ti è cieco di tenerli più asciutti possibile diciamo che ha una caratteristica il dendrobium chingianum la caratteristica che riesce a stare anche un mese senza acqua per via del fatto che ha queste canne per via del fatto che in natura loro vivono sulle rocce quindi sono abituati a stare con le radici a temperature estive veramente grandi e sono abituati a stare anche senza acqua quindi vivono di tutto di sole di freddo di ogni cosa hanno un'orchidea eccezionale non a caso la tengo insieme ai gym medium che vi ho fatto già vedere altri video quest'anno ho fatto una cosa in più allora diciamo che loro sono due anni che stanno fuori letteralmente sbattuti fuori anche se è difficile l'idea di provare a farlo però mi sono documentato visto che loro vogliono vogliono freddo in natura questi prendono anche delle celate delle celate leggere allora prima io li tenevo come tutti nel balcone qui li tenevo esposti all'acqua allora non è che siano morti non è che gli sia dispiaciuta la cosa però non erano in fibra di cocco però notato che se la regolarizzo io l'acqua è meglio perché perché praticamente potevano passare giorni che erano troppo bagnati e giorni troppo asciutti perché lasciati alle condizioni atmosferiche magari un po troppo estremo per questo orchidea anche se è un orchidea estrema prima la nevo in materiale inerte però nonostante tutto in base di plastica materiali inerti diciamo che tenuta le condizioni atmosferiche non tanto per il caldo per il freddo ma quando l'acqua era un problema perché tre giorni che piove me l'hanno accettata volentieri come situazione e poi anche un anche un mese senza acqua stanno abbiamo detto prima però diventa difficile può darsi che piove per tre giorni per tre giorni non piove e poi piove in altri tre cioè è difficile gestirli all'acqua che viene dal cielo alla questi sono protetti e dall'attenda stanno rientrati questi questi l'acqua se non lato io non la riceveranno mai possono solo beneficiare del dell'umidità quest'anno la condizione dei fiori è spaventosa per me la prima volta a vederli così tanti getti floreali che penso che tra 20 giorni saranno pronti questi sono i keiki che dicevo nell'altro video questo è un keiki praticamente questa pianta è fenomenale perché fa o il keiki o ricresce dalla base parte ricresce in condizioni caotica una sopra l'altra è una pianta indisciplinata crescono uno sopra all'altra se intrecciano fanno diciamo dei veramente dei giochi diciamo giochi ma fanno degli intrecci pazzeschi e quindi si riproduce o attraverso il keiki abbiamo uno qui e un altro qua abbiamo uno qua guardate sembra il colore della ricettazione appena nuovo ecco non li tocco perché queste radici che voi vedete qui sono pressoché zero e se non sviluppano le radici non li posso prendere perché no e questa è una foglia vecchia ha di tutto funghi e contro funghi ma rimane lì non la tratto e quando è ora la foglia se ne va anche perché quella è una canna vecchia e quindi ecco non vi affannate a trattare una foglia vecchia penso che sia una delle prime canne della pianta che ho avuto quindi rimane lì tranquillamente nessuno la tocca quando sono nuove sono lucidissime bellissime sono fresche 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 e della vegetazione nuova e più violetta più violacea quando prendono il sole guardate diventano viola le foglie è normale è normale perché il colore viola significa che sta prendendo la giusta quantità di sole questa è una finestra est dirigevo negli altri video quindi queste prendono il sole alla mattina fino a mezzogiorno non dalle otto perché abbiamo un palazzo dietro alle spalle che che copre il sorgere del sole però diciamo che nel periodo estivo dalle dieci e mezzogiorno sole diretto totale in inverno abbiamo quello della mattina perché per via delle dell'orientamento del sole ho provato a tenere fuori anche qualche l'odigesi ma questi sono piantine piccole le altre le ho dentro stanno fiorendo e non le posso mettere fuori perché sennò questo è pure l'odigesi poi faremo un video quando ce lo fiorite un'altra orchidea speciale perché è da intermedio fresco freddo sopporto è caldo quindi quando andiamo con dentro abbiamo un ventaio di esposizione pazzesco allora siccome già delle orchidee delle radici talmente fine che non vi voglio neanche guardate capelli sono radici fine come capelli alla discorso è questo queste possono stare fuori anche loro fino a zero gradi non sotto zero perché non lo reggono queste sotto zero per breve periodo di tempo lo reggono in natura prendono delle celate prendono neve l'anno scorso avevano la neve sopra quindi poi ho deciso di metterle riparate perché voglio gestire io l'acqua e non lasciare che se la prendono così come viene risultati sono questi tantissimi fiori fiori che profumano tantissimo quando c'è la luce del sole e ci sono vari tipi di chingianum quindi sono rossi rossi fucsia bianchi splash che sono miscelati vale la pena a questa qui era tutta una pianta unica poi sono diventati 250 ecco non so quante sono non me ne vado a contare perché poi tra qualche anno raddoppieranno di nuovo e vale la pena se provate dendrobium e chingianum prendeteli metteteli fuori tranquillamente diciamo che questi beneficiano anche di una cosa in più studiata ma studiata a caso della luce nella luce interna quindi che succede che tutto l'inverno è vero che le giornate sono corte ma loro beneficiano della illuminazione artificiale interna quindi diciamo che sono un po pilotati ecco ecco la bravura è quella cioè non che io sia speciale ma con la luce all'interno accesa a 12 ore e mezze quasi 13 estate inverno e questi d'inverno non stanno allo scuro perché il dendrobium genere soprattutto il chingianum e anche gli altri dendrobium in inverno vogliono molta più luce che in estate quindi immaginate che in estate ne vogliono tanta e in inverno ancora di più sia perché non è il caso del chingianum ma gli altri dendrobium che vivono sulle piante e hanno la situazione che le piante perdono le foglie quindi stanno esposti al sole sia che il sole nostro è un sole più come come inclinazione del sole è meno meno è meno pesante per loro questi potrebbero stare esposti anche alle ore centrali però non ho mai voluto spingermi oltre mi basta che la prendano fino a mezzogiorno e i risultati sono questi l'odicesi vi dicevo l'ho messo in il vasetto di terracotta perché sono dei dei distacchi di una pianta madre e altre c'è noi dentro questo orchidee che da uno da una vai a 10 in in zero secondi ecco quindi aumentano la quantità delle orchidee semplicemente per quello e queste le sto testando fuori anche se ancora un pochino presto perché siamo ancora a temperature un po basse la mattina 5 6 però tanto le preparo per l'anno prossimo vedete che con la fibra di cocco questo vaso è asciutto questo è bagnato questo è bagnato questo è asciutto l'unica fatica con la fibra di cocco che dovete fare un po ecco ogni mattina ad affacciarsi vedete questo è bagnato e questo è asciutto quindi domani dovrò bagnare uno due ecco un po la seccatura è quella con la fibra di cocco asciuga velocemente e con la pietra pomice asciuga ancora di più domani ne avremo tre da bagnare quelli che sono già bagnati non li tocco diciamo che quella radice del chingianum è fina non è così fina come quella dell'odicesi che vedete ecco questa è quella dell'odicesi quella del chingianum è un pochino più grande la vedete la ma si tratta di un millimetro giochiamo su qui squiglie vale la pena spero di avervi fatto innamorare di questa orchidea se già la conoscete meglio e potete spingerla fuori è stata fuori a tutto tutto quello che quest'inverno c'è stato lei ha preso insieme a loro si fanno compagnia e io non le disturbo le lascio qui ormai sono due anni quest'anno ho fatto il passaggio in bio sia in fibra di cocco era verso settembre ottobre e sia ho fatto il passaggio di mettere le riparate così l'acqua la gestisco io piloto tutto io devono solo che vivere non fare i fiori grazie e spero di aver fatto un video interessante su questi chingianum spero di farvi venire voglia di metterle nelle vostre collezioni vi aggiornerò quando ci saranno i fiori e poi vi delizierò con questa splendida fioritura grazie di avermi seguito a presto grazie a tutti